Due punti per ritrovare se stessi e alimentare il sogno playoff, due punti per vincere il campionato e giocarsi le proprie chance per un posto in Serie A, benvenuti nella 26esima di DNA Silver in cui Roseto ospita Agrigento al Palamaggetti. Un cordiale ben trovati da Alex Petrilli, da Fabio Dallamonti, Leo contro Mian, poi va da Legion, esce Moccavero ma la tripla di Legion buca la retina. Piazza dentro per Chiarastella, lo aspetta Arcangelo Leo, lo scarico in angolo per Fabio Mian, la tripla del numero 7. In quell'occasione Vogan segnò 22 punti, poi seguì Di Viccaro con 18, dall'altra parte 21 punti per Sol e 10 per Legion. Forse con la gara di Matera c'era questo tipo di clima, intanto Vogan con una tripla devastante. Si fa a vedere Chiarastella, Manello prova a buttarsi dentro lo scarico per Di Viccaro, ancora per Chiarastella, extra per Sianello per Di Viccaro. Gioca in maniera splendida la Moccavero, però non trova il canestro, allora Legion prova a ripartire ma la difesa è già schierata, Genovese peschiato ottimamente da Alex Legion. Piazza, penetra e scarica per Moccavero, si va da Di Viccaro che prende un tiro senza ritmo, solo cotone per Vincenzo Di Viccaro, 31-40. E diventiva la palla dentro per Bisconti, il taglio di Legion, fallo e canestro. Dunque con Vogan il blocco di Chiarastella che taglia in backdoor, ma c'è il palleggio insistito per Vogan. Ci prova a Moccavero, dai tre punti anche Legion contro Mian dai tre punti, senza pensare la tripla di Alex Legion. Legion ma è molto lontano dal pitturato l'ex giocatore di Bari, allora ancora Legion, arresto e tiro dai due punti. Ed è transagonistica per Alex Legion. 24 per Piazza e compagni, l'errore proprio di Piazza. Stanish vuole far partire la transizione, Legion inchioda la schiacciata del 49. Della rimessa per Agrigento, ancora 10 secondi in questa azione, Piazza. Il Bola Maggetti è un'autentica polveriera, si prende il tiro dai tre punti, Alessandro Piazza non trema la sua mano in questa terza frazione. Legion comincia a palleggiare ma viene raddoppiato, qui poi Stanish si fa soffiare il pallone da Vogan che dall'altra parte inchioda un'altra schiacciata e risponde ad Alex Legion. I siciliani perché hanno meritato veramente di vincere questo campionato scavando un solco insommortabile tra loro e tutti gli avversari. Si unisce a tutta la gioia della Moncata e anche il pubblico del Palamaggetti che appaude brillantemente i suoi avversari.